C'è allarme fra i commercianti del centro storico di Caltanissetta dopo il furto in due negozi verificatosi nella notte fra sabato e domenica. Confconsumatori sottolinea come non sia il primo caso, ricordando l'episodio recente verificatosi alla pasticceria Dolci Tentazioni e chiede più vigilanza per evitare ulteriori saccheggi. Nell'ultimo fine settimana sono stati presi di mira un esercizio commerciale per abbigliamento e un negozio di pelletteria in viale Testa Secca. Non solo però attività commerciali private, alcuni soggetti si sarebbero intrufolati nell'ufficio tecnico dell'ex provincia regionale. In questo caso non è chiaro quando i ladri sarebbero riusciti a entrare negli uffici. Novità dovrebbero arrivare dalle immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza che il Comune ha fatto mettere davanti l'ingresso dei giardini pubblici e con altre telecamere posizionate in direzione di viale Testa Secca. Intanto fra i commercianti cresce la paura. Per questa ragione Confcommercio ha chiesto maggiore vigilanza alle autorità.